dai che raga io devo sempre mettere fretta no uccio no ma no adesso ma no sulla terrazza del festival contro che guarda questa ridente cittadina di castagnole delle lanze rideremo anche noi perché siamo in compagnia di uccio de san grazie 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 che bella presentazione ridere ridere se sempre detto che la migliore medicina però amici state attenti che se ridete senza motivo ci vuole le medicine quindi organizziamoci bene è importante ridere importante far sorridere per me è una cosa bellissima mi viene naturale ho sempre detto che lo farò fino a quando la gente riderà perché non puoi costringere la gente ridere tanti dicono che più facile far piangere che far ridere ed è proprio così mi viene naturale sono contento che ci riesco perché sai quanti complimenti mi arrivano uccio stavo un attimino giù un po di depressione però guardandoti ho passato delle belle ore il lockdown l'abbiamo passato in maniera serena che poi durante il lockdown tanta gente si è agganciata con i nostri social e ci ha seguito tanto ma voi per trovare l'ispirazione tu per trovare l'ispirazione per le tue barzellette da mettere poi online vai anche sui treni ascolti senti la gente sul treno sul pulmo al supermercato ascoltare le persone che parlano è la cosa più importante questo lo dico proprio sul palco e le cose che ti succedono e sono uscito all'autostrada per venire qua un esempio insomma l'ultima cosa che è successa neanche un'ora fa esco dall'autostrada mi ha fermato la battaglia della polizia mi hanno riconosciuto però e poi si mi hanno riconosciuto so che stai nella serata c'è sempre qualcuno che ha fortuna mi fermano fa la multa aspetta no 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 quasi quasi anche a me ti ho riconosciuto stai andando a castagnole però mi dispiace per te dice il poliziotto hai la lampadina fulminata sono 30 euro ho detto vabbè cambia l'elettroauto me l'ha chiesto 50 e l'ha cambiata l'ha cambiata sei partito da una parrocchia ma come mai i comici partono sempre dalle parrocchie lo scoutismo mi ha portato sai chi è scout per stimolare i ragazzi ti fanno prendere specialità quindi specialità di cuciniere devi fare delle prove in cucina specialità di infermiere devi fare delle prove di soccorso e io chiesi la specialità di attore per stimolarmi per stimolare i ragazzi insomma a far l'attore quindi c'erano delle prove lo spettacolo lì lo spettacolo lì lo spettacolo lì e insomma mi innamorai dello show dello spettacolo e già da bambino mi piaceva alternavo con lo studio perché poi un padre medico devi studiare devi studiare devi studiare non era semplicissimo andare nei villaggi però alla fine ho vinto io e sono contento perché insomma il pubblico mi segue è tutta nata da una passione anzi dico gli amici che ci seguono se la vostra passione un domani diventa la vostra professione è la miglior cosa no pensavo perché dio me la mandi buona no non era per quello la barzelletta qual è no dico cioè se facevi in parrocchia dico dio me la mandi buona no no in questo senso parrocchia ecco uno dei personaggi che rientra tanto nelle barzellette proprio il prete dondino io dico sempre con i carabinieri medici e preti sono le maggiori barzellette esistenti e la sai l'ultima ti ha un po' lanciato la sei l'ultima è servito tantissimo allora lo spettacolo già io ero innamorato la conduzione di serate l'intrattenimento poi sai quando uno piace fare questo cerca ogni possibilità di farsi vedere c'era la selezione della sei l'ultima nel 97 partecipai non avrei mai pensato di raccontare una barzelletta io però pur di andare in televisione sai c'è chi va a forum c'è chi fa quello quello quell'altro andai alla sei l'ultima provai con la barzelletta passai la selezione poi passai un'altra selezione fino a quando addirittura nel 97 fu l'anno che morì gino bramieri e mi diedero il premio bramieri ritirai questo premio ed allora insomma parla del 97 poi nel 2000 mi venne un'idea che poi è stata vincente quella anziché di raccontarle le barzellette di farle diventare dei cortometraggi dei filmati è quello che vedi che facciamo noi il nostro nel nostro vi seguo vi seguo vi seguo tutto nasce però per una tv una tv pugliese che prende bene puglia morise basilicata con l'arrivo dei social questo prodotto è stato veicolato su youtube facebook e insomma diciamo che tu hai stato a conoscere un po tutti hai proprio cavalcato quest'onda social sei stato forse il primo sempre senza volerlo cioè dopo tutto se ci pensi non è che io abbia tanta rai media set poco e niente e solo grazie social che mi conoscono un po ovunque riempio le mie piazze le mie serate i miei teatri e quindi anche perché il social non sparirà mai la tv uno magari non la segue la segue non la segue invece il telefonino si ha sempre in tasca e ormai quello che il prodotto che tu vedi sul telefonino è quello vincente la cosa che mi ha colpito di più del tuo percorso per quello che ho potuto vedere e che tu proprio sei partito dalla puglia iniziato a girarla con un amico e ti chiedo poi magari di parlarcene e hai conquistato prima di tutti i pugliesi e poi tutti gli altri ma è inevitabile perché uno che fa un programma in puglia mi conoscevano benissimo in puglia e quindi la puglia l'ho rivoltata rigirata dieci anni solo puglia non solo puglia dire la verità perché l'emittente era forte e forte in puglia molise basilicata quindi il mio territorio era solo esclusivamente puglia molise basilicata appena uscivo dalla puglia anche dopo il molise in abruzzo non mi conoscevano dopo con l'avvento ripeto di social mi hanno conosciuto buco ho iniziato le prime serate adesso posso dire che su 100 serate che ho fatto quest'estate 75 le ho fatte fuori dalla puglia vedi qui è solo un 25 una ventina forse nella mia puglia però che ho già dato tanto insomma in puglia in ultimo ma non ultimo la comicità la comicità beh tu diciamo uno nasce comico ce l'hai o non ce l'hai un po' no ma la lingua il dialetto quando lo porti fuori lo devi adattare nel senso il tuo spettacolo che nasce diciamo in puglia quando vieni in piemonte diventi polentone anche tu un po' no polentone no però io rimango me stesso io poi tra parenti il dialetto non conosco neanche tanto bene sono si sente molto la mia pugliesità che comunque piace piace è stata l'epoca caratteristica dei toscani dei romani dei napoletani da un po' di tempo anche grazie a che con salone anche piume dio il pugliese ha preso la sua strada piace tanto e quindi vedi come sto parlando adesso non dire che non mi capisce però magari si sente che c'è la baricità è ovvio che se sto a bari se sto nelle zone limitro a bari un po più in puglia posso spingere qualcosa in più però nel momento in cui salgo sul palco questa sera sono me stesso anche perché tante volte c'è l'espressione giusta al punto giusto può far ridere più un'espressione fatta al momento giusto e non la battuta la battuta forzata che io odio tra parentesi odio la comicità troppo forzata quella l'uomo travestito la donna la finta caduta pur di far ridere insomma la gente è attenta esigente e va rispettata certo saluta per conto di dondino la piazza che ti guarderà a castagnole delle lanze dove deve guardare la giusta questo perché io poi ho spiato e ho spiato televisione ne ho fatta parecchie ho spiato il monitor che mi inquadrava e vedevo quella quella che perché l'inquadratura l'inquadratura più di fronte a me piace di più amici grazie per l'attenzione che avete posto in questa intervista grazie per l'accoglienza di questa sera grazie perché mi seguite sui social però vi aspetto in qualche piazza in qualche serata ovunque io possa mettere piede vi aspetto dove leggete uccio de santis io ci sarò a più tardi in piazza san bartolomeo per l'attenzione che ci sarò a più tardi in piazza san l'attenzione che ci sarò a più tardi in Grazie a tutti